Mi chiamo Esposito Giovanni, vengo da Roma, ho 57 anni. I problemi prima con la bocca ce n'erano tanti e poi a me mi è piaciuta la pubblicità che c'era su internet. Io vado a Cicinao e mi sono trovato veramente bene. La sensazione era, in realtà è stata quella, che ho trovato una clinica abbastanza organizzata, pur che qualcuno era contrario perché dice paghi prima, non sai quello che va incontro, per me la sensazione era troppo forte. No, del tutto, l'organizzazione, l'ospitalità, la comunicazione tra tutti, ecco è quello che dovrebbe essere, diciamo in generale, quello che mi aspettavo ma mi ha stupito veramente. E sono stato molto contento di aver fatto la sua scelta. Adesso è cambiata da così a così è cambiata la vita, sia nella comunicazione, sia nell'aspetto fisico, sia in tutto, in tutto è cambiata la mia vita adesso, che a bocca ce l'ho posto di tutto. Ero a comunicare, nello stato che stavo, era a comunicare con quelle persone, poi mi sentivo sempre a disagio, adesso no, adesso è cambiata totalmente la vita mia. I chirurghi sono stati bravi, sia Jacob che Basile, molto attenti, molto premurosi, nei piccoli dettagli, è importante tantissimo il sorriso, comunicare con quelle persone, adesso pure a 57 anni ma la vita mia posso dire che è cambiata adesso, è cambiata totalmente. No, io voglio aggiungere qualcosa, se qualcuno ha qualche dubbio, qui a Chisinau, dal dottor Pannas, è da togliere solo perché è una cosa perfetta, è una clinica perfetta per chiunque voglia venire.